In un mondo di maschere, dove sempre è possibile riuscire a sconfiggere tutto ciò che andiamo all'uomo di potere. La pazità, la ricchezza e l'abilità, sono mostri da mantenere, noi però non siamo soli, canta con noi, a fine mani, a strada e in alto, muovi e a ritmo del canto, si gira a mano, se trovi cino. Grazie a voi ragazzi, grazie. Ciao.